Erano assenti i dissenzienti al PD. A fare opposizione ci ha pensato il PDL è un pimpante Antonio squillante, ma la neomaggioranza ha provata compatta il rendiconto di bilancio del 2010 con un avanzo di amministrazione di quasi 11 milioni di euro. Ultimo consiglio comunale dell'anno caratterizzato proprio dalle assenze del PD e degli indipendenti. Nella relazione sul rendiconto di bilancio 2010 l'assessore Giacomo Sorrentino snocciola i dati 37 milioni di euro di residui attivi di cui 451 mila eliminati, 34 milioni di residui passivi di cui 390 mila eliminati, un fondo cassa di 6 milioni e 300 mila euro, 36 milioni circa di entrate e 27 di uscite, per un importo complessivo avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2010 di 10 milioni, 881 mila euro e con una capacità di indebitamento pari al 5% e alla riscossione del 94% dei fitti comunali. Vi accingerete ad approvare a fine anno un rendiconto che andava approvato entro giugno, ha evidenziato dai banchi dell'opposizione il capogruppo del PDL Antonio Squillante e mi preoccupano alcuni rilievi dei revisori dei conti, che elenca subito dopo riscossione pari a zero del recupero previsto dell'ICI 419 mila euro e Tarso 50 mila euro, 234 mila euro riscossi a fronte dei 774 mila euro previsti in accertamenti tributari, debiti fuori bilancio delle varie amministrazioni precedenti per 1 milione e 554 mila euro. Il sindaco Mauri ha invece evidenziato come l'amministrazione abbia trovato 6 milioni di euro di canoni idrici da riscuotere e si procederà applicando il pagamento del consumo minimo di 18 metri cubi per un importo di 2 euro mensili a cittadino. Rendi conto approvato con gli 11 voti della maggioranza, contrari tre consiglieri del PDL. Sulla questione tributi, sulla chiacchierata gestione sogget interviene invece Marcello Ferrara, nuovo cardine dell'esecutivo Mauri. A me non interessa, l'ho detto già in qualche consiglio comunale, la soggetto è un'altra ente, a me non interessava quale fosse l'ente ad occuparsi della riscossione, diciamo, di questa illusione che c'è stata nel corso degli anni. A me non andava giù il fatto che tutti non pagavano, c'era una parte di contribuenti che per molti anni forse sono state poco attenti, l'ho detto già in qualche consiglio comunale. Quindi il fatto che poi ci sia una società o meno, a me non è mai interessato il nome della società, ma mi va di fare mio il motto, pagare tutti, pagare meno. Questa sera tra gli altri argomenti ci sono molti debiti fuori bilancio, cui l'amministrazione guidata dal sindaco Pasquale Mauri prende la responsabilità e chiede un gesto di responsabilità anche alle opposizioni. Io chiedo un gesto alle opposizioni perché penso che queste opposizioni, molti di questi debiti, se non tutti addirittura, fanno parte della loro gestione. Quindi all'opposizione stasera vedo nel banco delle opposizioni il PDL. Il PDL ricordiamo che per due anni ha amministrato questo comune e tutti i debiti fuori bilancio che adesso approdono in consiglio comunale non sono né più né meno gli atti che comunque dovranno essere correttamente già pagati nella passata amministrazione.